ben ritrovati allora l'intervista del punto oggi sarà interamente dedicata a un bravissimo attore attore regista veramente la cultura il cinema il teatro in una sola persona dante marmone grazie per aver accettato il mio invito grazie grazie a te di avermi invitato allora dante sarà inevitabile dopo aver ospitato una persona che tu conosci a malapena forse tiziana si chiama relli anche con con te oggi rivivremo la tua lunghissima e importante carriera e ovviamente subito ti voglio chiedere no è un periodo finalmente insomma per voi attori per una categoria spesso come dire purtroppo penalizzata che aria si sta respirando in teatro negli spettacoli che state portando in scena si sta cominciando a creare un po d'aria perché prima mancava l'aria adesso per fortuna comincia a starci un po d'aria per cui si comincia a respirare ma la situazione è ancora difficile perché il pubblico non è sicuro e per cui la situazione non è tornata alla normalità ma è rimasta diciamo un pochino appesa così e mi sa che bisogna aspettare ancora per per tornare a due anni fa al 2019 mi fa molto piacere parlare di questo perché dante sia molto espresso su questo e lo faremo anche durante questa intervista ma prima di entrare nel vivo sia per affrontare i temi della tua carriera ma anche di queste tematiche importanti di cui tu sei davvero un rappresentante ti ho fatto un piccolo omaggio io ti racconto in questo modo 50 anni di teatro oltre 30 di cinema 25 di televisione dante marmone una delle icone della recitazione pugliese la sua carriera comincia tra teatro canto classico e chitarra fa parte di vari gruppi rock ma la sua carriera svolta nel 1974 quando fonda la compagnia teatrale anonima gr insieme ad altri attori pittori e musicisti i suoi spettacoli si ispirano al mondo operaio e proletario tanto da essere definiti dalla critica nazionale popolar metropolitani la sua compagnia si trasferisce a roma nella seconda metà degli anni 70 e marmone allarga i confini del teatro popolare aprendolo a nuovo prospettive ambientali sperimentando nuove forme espressive raccogliendo il consenso di firme eccellenti come da ciamaraini italo moscati nicola garrone angelo maria ripellino e tanti altri nell'84 marmone incontra il regista nanni loi che si impegna a realizzare un progetto teatrale tratto da un suo stesso film caffè express rielaborato in uno spettacolo dal titolo dolce o amaro i due lavorano insieme anche nell'osso sacro spettacolo ambientato nel medioevo che narra le vicende legate alla storia di bari con lo e recita anche nel film scugnizzi alla fine degli anni 90 interpreta sabino nella capagira presentato al festival di berlino e vincitore di una serie di premi tra cui il david di donatello il suo grande amore però è continuare a scrivere copioni riverenti che trovano grande gradimento la sua arte arriva anche nelle sitcom televisive come catene della quale ha scritto ben sei serie in collaborazione con tiziana schiavarelli sua campagna di vita e lavoro nel 2014 pubblica il suo primo romanzo la stirpe stravagante un racconto che parte dal neolitico per descrivere le origini e la stravaganza del popolo pugliese a marzo 2015 esce nei cinema il film ameluc dove dante marmone coprotagonista una delle sue ultime interpretazioni è quella di mariano in storia di una famiglia per bene di stefano reali e nicola barnaba una vita dedicata all'arte con l'impressione che la prossima opera sarà sempre la più bella bello grazie grazie a te davvero per aver accettato il mio invito perché non è semplice invitarti tu molto spesso sei un po più riservato rispetto invece a quel tornado che hai accanto che è veramente è un treno in corsa è un treno in corsa sì è un vulcano la vulcanica tiziana grazie davvero sono contenta sai perché sono contenta perché raccontare 50 anni di teatro se mi dovessero chiedere quali sono i personaggi che caratterisca in qualche modo caratterizzano il nostro territorio la pugliesità beh inevitabile che io possa fare riferimento a dante marmone tiziana schiavarelli ma grazie sono orgogliosa se perché perché essere pugliesi profondamente pugliesi nell'arte non è una cosa scontata e tu ci sei sempre riuscito alla grande allora il segreto qual è è la spontaneità cioè non andare a cercare sovrastrutture mentali essere semplici nella semplicità costruire le proprie cose i personaggi le battute le situation nella semplicità con la semplicità perché poi partendo dalla semplicità si può anche descrivere un mondo più complesso con personaggi complessi perché noi viviamo in una società complessa oramai non è più come già 50 anni fa era più semplice oggi bisogna districarsi in un mondo pieno di come dire di strade stradine piazzette che tu se sbagli la scelta poi ti perdi per cui questa è la è stata la mia chiave pochi sanno che in realtà tu prima di come dire cimentarti nella passione del teatro della televisione del cinema e anche nel romanzo nella scrittura parti dalla musica si parti dalla musica e come ti è venuta questa passione poi innanzitutto per la musica e poi trasferendoti a tutt'altra storia beh diciamo che io vengo l'ho scritto anche da una famiglia di musicisti sia da parte di mio padre che di mia madre per cui era inevitabile che fossi contagiato in questo caso positivamente per esempio mio fratello è musicista nel vero senso della parola diplomato al conservatorio mia sorella è soprano io sono il più piccolo dei tre e suono da tantissimi anni da quando ho otto anni però il mio sogno è sempre stato quello di fare l'attore io sarei potuto diventare un musicista però ho voluto fare l'attore a me è piaciuto fare teatro soprattutto più che il cinema sono sempre stato molto innamorato della proprio la recitazione sul palcoscenico e la prima volta che ho recitato in pubblico è stato a tre anni fui preso e gettato direttamente sul palcoscenico in una manifestazione perché avevo imparato una lunga poesia a memoria ero così divertente dicevano quando la recitavo che non perdevano occasione i miei genitori i miei parenti per farmela diciamo recitare e così capitò questa situazione in questo teatro e chiesero e io andai lì senza vergogna feci la mia parte e andai via ebbe un regalino e andai via e poi ho sempre così sognato di fare l'attore quando un certo punto no arriva nella tua vita l'anonima gr l'anonima gr ecco sono curiosa raccontami proprio dal principio io ho detto ho sempre più che il musicista ho voluto fare l'attore però fino a vent'anni ventuno ho suonato in gruppi eccetera band però sempre con l'occhio puntato al mio sogno di fare l'attore e per cui la prima volta che ho recitato con una compagnia semi professionale si chiamavano i baresi ed era una compagnia la prima compagnia che faceva teatro dialettale perché all'epoca ti sto parlando del 71 72 per cui all'epoca non c'era nessuna compagnia che faceva teatro dialettale e loro la cosa bella e loro erano diretti da giuseppe solfato che era un gran personaggio ahimè morto prematuramente professore universitario che era innamoratissimo del teatro e aveva una sua idea del teatro popolare e quindi mi coinvolsero io all'epoca non scocchiavo una sola parola in dialetto e per cui dopo che resti il copione non è per me no no te ne puoi andare e io dici ma come me ne posso andare mi avete chiamato e ma non sai parlare il dialetto e dici guarda io fra una settimana ritorno ve lo porto imparato a memoria e così è stato imparai a memoria tutto il copione in dialetto e poi da allora ho cominciato a masticarlo e a parlarlo naturalmente non è che io lo parli bene quando sto sul palcoscenico sto concentratissimo e quindi ci riesco anche perché uso la traduzione simultanea io non penso chiaramente in dialetto per cui non ho l'immediatezza e sono diventato velocissimo nella traduzione come quando si parla in inglese no? che tu parli e immediatamente traduci nella mente e sei veloce ecco io il dialetto lo parlo così ecco a proposito del dialetto no? cioè è inevitabile sottolinearlo il successo proprio dei vostri spettacoli sono proprio quell'avvicinamento no? quella cultura locale che portate no? si ecco qual è la sensazione che si ha quando ogni volta debuttate perché mi sembra di capire che ogni volta è la prima volta ogni volta è sicuramente la prima volta perché noi ci siamo impegnati a a non creare un cliché fisso e quindi seguire quel cliché quello stampino per cui noi ci piace proprio il rischio altrimenti non ci sarebbe più mordente e quindi ogni volta inventare uno spettacolo originale con altre radici, con altri spunti che è ogni volta una scommessa perché tu non ti poggi sul sicuro del cliché ma ti poggi sul tuo mestiere e devo dire che fino adesso ci è andata bene l'ultimo spettacolo a proposito te lo faccio vedere e ti prego ecco cerca di essere clemente con me perché sai che ti stimo e ti voglio bene perché su questa storia del tuo ultimo spettacolo Giocattoli Tiziana mi ha messo in mezzo ad un gioco perché ha incominciato a dire ti ricordi chi è quello, quell'altro ho fatto una pessima figura ti prego di non mettermi sotto esame però riconosco che veramente questo spettacolo diciamoci la verità rappresenta proprio la leggerezza di cui abbiamo bisogno Dante in questo periodo Sì, ma non è solo leggero questo spettacolo perché chiaramente Giocattoli è una metafora sull'umanità perché qual è il destino dei Giocattoli essere sfruttati, spuppazzati dai bambini e cioè smontati, rimontati, gettati, rotti e poi essere gettati che è un po' la fine che facciamo tutti quanti noi umani o viventi in generale Ed è stata una prova veramente molto complicata perché sai interpretare Pegasus Ecco, era quello che non mi veniva Pegasus ecco, finalmente so chi è quel personaggio è Pegasus, uno dei cavalieri dello Zodiaco E lei era una bambola E lei è una bambola, diciamo, scadente che si aveva in omaggio acquistando un pacco di pannolini per bambini Non oso immaginare Quindi, io sono importante sono Pegasus eccetera E lei è la strifenzua detta in dialetto italianizzato E però si crea la complicità perché questi due giocattoli io ero stato smontato Lei invece non era una bambola curata perché era sì, c'era la Barbie Ken tutti questi Lei era proprio Lei era l'ultima tenuta sotto al letto nella polvere nella e per cui vedi c'è anche l'umanità nei giocattoli I sentimenti Eh sì E lei che da vent'anni è rimasta sola perché i bambini sono diventati grandi poi sono partiti e la stanza è rimasta chiusa i genitori non sapevano che fare l'hanno lasciata chiusa con tutti questi giocattoli rotti e lei ha visto che i miei pezzi e li ha trovati e fino alla fine è riuscito a rimontarmi e io quindi ho ripreso vita una volta rimontato e da questo momento nascono sia le battaglie fra noi che le complicità perché tutto si sviluppa sul filo del gioco perché i giocattoli che fanno? giocano succedono le tragedie però loro cercano di superarli attraverso il gioco perché sono giocattoli nella loro ingenuità sino a che proprio verso la fine i genitori decidono di ripulire la stanza e di gettare via tutti i giocattoli e allora lì si crea veramente il panico e i due lui dice ti porto nella tredicesima costellazione e quindi lei si aggrappa e volano ma poi si intuisce io non voglio parlare del finale perché vorrei perché sennò ci sveglia chi ancora non ha visto giocattoli quindi riserviamo fino a questo punto e per cui tutta la loro vita essendo giocattoli tutto viene risolto a gioco però la vita non è un gioco assoluto la vita è cinica è amara per cui i giocattoli ne pagano le conseguenze beh devo ammetterlo no poi insomma tu sai che noi ci conosciamo quindi io vi seguo veramente con grandissima da tanti anni ma è stato sempre quello che avete raccontato non solo a teatro dove non mi sono quasi mai perso uno spettacolo ma soprattutto anche con la televisione perché il successo di Catene che avete portato avanti con tantissimi anni con Telenorba è davvero insomma vi hanno premiato a livello proprio autorale riconoscimenti veramente i più grandi autori perché poi veramente avete inscenato un melodramma popolare di una famiglia tu poi ti sei complimenti due volte perché ti sei sdoppiato in due ruoli eh sì perché noi attraverso Catene attraverso una sitcom abbiamo parlato delle problematiche sociali eh eh sì perché abbiamo parlato di questa famiglia di Bari Vecchia dove lui è in galera sempre perenemente è la povera la vera protagonista è la moglie sì ma Tiziana fa sempre la parte della vittima della povera della bambola abbandonata eh però in questo caso lei è la forza perché lui sta in galera è un simu sesta maestra detto in dialetto barese però è lei che deve provvedere a mantenere la famiglia poi c'è la mamma la mamma di Natale che vive in casa e quindi la deve correggere e quindi deve portare la biancheria a Natale le deve portare le cose e per cui lei come tanta tante situazioni nei nostri quartieri popolari meridionali c'è questa micro criminalità che più che banditi è povera gente che cerca di sbarcare il lunario perché poi la criminalità viaggia in aereo non nel diciamo non ha problemi economici come invece la famiglia Catacchio ne aveva tantissimi per cui come si sbarca il lunario quando si è poveri e non si hanno prospettive facendo piccoli contrabbandi le sigarette tutte quelle porcherie che si vendevano in casa Catacchio per cui e perdonami in quegli anni quella storia che raccontavate era in me purtroppo comune a tante altre storie viva assolutamente anche perché adesso per esempio Barivecchia è già cambiata un bel po' perché adesso c'è il turismo per cui si guadagna vendendo le orecchiette vendendo souvenir tutti gli abitanti di Barivecchia si sono organizzati e quindi hanno sempre qualcosa da offrire da vendere al turista per cui diciamo che l'economia in un certo senso sta cambiando e chissà oggi Catene che cosa sarebbe si potrebbe esserci un revival un ritorno potrebbe essere questa famiglia che si arrangia sia col contrabbando che con questi bed and breakfast moderni moderni fatti alla popolare fantastico Dante Marmone sta scrivendo il copione di Catene qui ad Antenna Sud e potrebbe essere svoltarlo in questa maniera questa io mi candido a fare anche un cameo se vuoi posso essere una figlia venuta da lontano una cugina quello che volete certo ma c'è stata anche un'altra cosa molto carina che abbiamo fatto ancora prima che sarebbe il festival di San Romolo che noi prendevamo in giro il festival di Sanremo dove gli sfarzi queste cose i grandi divi e invece il festival di San Romolo era un festival organizzato da un paesino come si dice a Bari con quattro mazze ed è avuto un sacco di successo perché poi sono stati inventati tantissimi personaggi devo dire che è stato bellissimo anche quella sitcom che poi è durata tantissimo perché è nato come uno spettacolo e poi è diventata una sitcom che abbiamo portato in giro in tutta Italia da Roma a Catania a Milano allo Zellig al Teatro Fellini di Roma cioè proprio guarda ha girato tutta l'Italia e sempre con grande riscontro perché rappresentava una novità vedere questi personaggi tutti con le paillettes queste parrucche che fingevano di essere i grandi divi della televisione quella alta diciamo del cinema ed è carino perché viene fuori quest'anima popolare ingenua vogliosa di esistere e di essere rappresentata e di essere rappresentativa di un mondo tu pensavi che sarebbe stata un'intervista semplice ah perché mo' si complica decisamente perché la tua dolce metà ha detto delle cose su di te e io ce le ho e te le voglio far ascoltare guarda a proposito di sintonia stai attenta perché come ho detto in anteprima di questa intervista queste parole le farò ascoltare a Dante perché verrà a trovarmi ma Dante è una carissima persona è una persona di un'intelligenza pazzesca un uomo di cultura grande cultura di una bellezza infinita è un uomo ineguagliabile ecco sentire questo pezzetto e basta poi il resto non lo tagliamo ecco invece quello che pensi davvero di Dante no quello che pensi davvero di Dante è esattamente questo solo che ovviamente c'ha dei difettacci mostruosi è una persona per me per me intrattabile allora io non so se lei stava scherzando o in quella seconda parte era seria soltanto tu me lo puoi dire eh no solo tu me lo puoi dire io ho cercato perché noi siamo assieme da tanti di quegli anni è chiaro che quando tu vieni da casetta dei tuoi genitori hai una tua conformazione mentale eccetera e poi invece ho imparato cosa vuol dire la convivenza con una compagna con una moglie eccetera non givo parlando di Tiziana Schiavarell però devi rispondere a quell'intrattabile amataci o love questo è quando vi siete sposati il giorno del matrimonio sì che poi è stato un matrimonio a quattro a quattro sì sì con sua sorella Nole e Pinuccio Sinisi che è il mio amico di scuola delle medie poi di teatro e roba varia eh sì io conobbi Tiziana e quindi ci mettemmo assieme e dopo due anni eh vedi la foto del eh sì e si mise insieme Pinuccio Sinisi con la sorella di Tiziana la sorella di Tiziana sì Nole questo è proprio il giorno del matrimonio guarda tutti e quattro sì 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 che ricordo hai di quel giorno? mi feci tre whisky prima di entrare in chiesa tre entrai già bello perché per me era una forma di interpretazione più complicata però è inevitabile che lei ti trasmette una forza incredibile lei mi trasmette una forza diciamo che ce la trasmettiamo a vicenda perché la nostra forza oltre a dopo a distanza di tanti anni è il volerci bene l'amarci ancora perché evidentemente inizialmente era un amore vero no? non di perché magari lei era bella e quindi io volevo stare con lei no io proprio ero innamoratissimo di lei e ho fatto i salti mortali per conquistarla e poi lei si è innamorata di me perché ha visto tutto quello che combinavo per poterla possedere ecco queste le farò ascoltare anzi la prossima la faremo tre l'intervista però devo dire che vedi qua è scattato pure un bel bacio è mara è una donna parliamo di donne o uomini è un essere un umano di quelli tosti che bisogna saper gestire perché c'è molta energia da ambo le parti ecco infatti quando ci ci scazziamo è la fine no è come accendere una stella filante è un momento come dire infuocato infuocato nel vero senso della parola senti Dante noi spesso ci siamo confrontati anche durante il periodo della pandemia tu sei stato veramente un degno rappresentante di questa categoria perché so che spesso insomma hai detto la tua anche con molto garbo insomma è sembrato quasi che il virus si prendesse a teatro ora devo dirti che ho visto insomma con tutto rispetto a San Nicola però ho visto qualche giorno fa duecentomila persone tutte senza mascherina allora un po' è anche il il paradosso il virus scompare in un momento e poi si chiudono i teatri vengono penalizzati gli attori questa è una cosa che ti ferisce è stato tremendo è stato tremendo perché sia per le compagnie teatrali ma anche per i teatri che hanno investito dei soldi per sanificare gli ambienti per creare tutti quei presupposti per dare fiducia al pubblico però non è servito perché purtroppo il cinema so che sta andando malissimo anche con bei film il teatro così va ma sempre in maniera noi siamo abituati a riempire i teatri per cui trovandoci in teatri con mezza sala già ci viene un po' di sconforto però nello stesso tempo è talmente tanta la voglia di tornare sul palcoscenico e di riabbracciare il pubblico che anche dieci persone servono a ridarmi la gioia di esistere perché vedi essere attori non vuol dire essere attori sul palcoscenico in televisione o in teatro essere attori vuol dire essere attori ogni giorno ogni attimo per cui attori veri parlo per cui si vive una situazione veramente dura perché l'attore che cos'è senza teatro senza lavoro come un corpo senza l'anima è un fisico che vaga per la città e per cui la guerra consiste proprio nel cercare di fare in modo di ritornare a tre anni fa al 2019 quando si lavorava tantissimo la gente riempiva i teatri si facevano tante cose belle eccetera e purtroppo non siamo ancora arrivati a quel punto e speriamo perché qui sono tre anni che diciamo speriamo dobbiamo solo sperare perché si sa che adesso in estate il virus cala dobbiamo vedere ad ottobre perché se si di nuovo si riaffaccia io non so veramente che strada prendere hai lavorato con grandissimi attori colleghi attrici hai incontrato grandi nomi della scena nazionale e anche internazionale ho avuto questa fortuna ho lavorato tantissimo e spero di poter riprendere qua ecco c'è un incontro che ti ha segnato che ti ha raccontato trasmesso ti ha lasciato qualcosa più di tutti gli altri eh beh sì per carità io sono cresciuto eh grazie anche a Cosimo Cinieri che è stato un grande attore collega di Carmelo Bene hanno fatto assieme spettacoli pazzeschi ma Cosimo non era solo un grande attore era diciamo un filosofo proprio del teatro della letteratura una persona di cultura già quando partimmo io l'ho conosciuto nel 76 quindi due anni dopo aver realizzato fondato l'anonima GR e già allora avevamo le idee abbastanza chiare perché noi volevamo fare un teatro come è stato detto non popolare ma che non si riferisse al solito teatro popolare quello dei vicoli di Barivecchia o quello di Edoardo di Peppino di Filippo sai il teatro popolare è inteso tradizionale no noi scompaginammo facemmo un teatro popolare che si rifaceva un pochino al CEP al Liorina Pigia a questi quartieri tipici questi quartieri fatti di di grattacieli non di casettine colorate c'è questa vita orizzontale tutti siamo abbracciati fra noi vicini no e diventa una vita verticale perché da vivere nei sottani poi questa gente è stata trasferita nei palazzi di otto piani sette piani cinque e per cui c'era una sorta di solitudine e quindi il pescatore mollava la rete la barca e diventava operaio nella zona industriale così come la donna smetteva di fare le orecchiette e andava a lavorare alla Etemarks quindi diventavano operai operaie e quindi tutta una problematica gli scioperi i licenziamenti gli spettacoli che abbiamo fatto tanti spettacoli nella zona industriale di notte con i fuochi che accendevano gli operai per tenerli attivi per dargli la forza per creare visibilità loro perché poi venivano i giornalisti a vedere che stavamo facendo per cui ecco questo genere di teatro diciamo popolare d'attacco non di auto compiacimento auto celebrazione di quando è bella la vita popolare no quando è brutta la vita popolare poi andiamo a vedere se c'è qualcosa di bello perché c'è sicuramente io sto esasperando però la vita popolare è piena di problematiche e noi le abbiamo sempre tirate fuori e poi siamo andati un po' più in alto con Cosimo Cinieri abbiamo imparato anche la filosofia del teatro e poi il grande incontro con Nanni Loi che è stato Nanni Loi è un personaggio uno dei più grandi registi italiani che venne a vedere il nostro spettacolo se ne innamorò e così decise di fare di collaborare con noi e quindi realizzammo il suo film meraviglioso Caffè Express ci fu fatta questa riscrittura divenne dolce o amaro e quindi io ebbi la fortuna di scrivere con Nanni Loi che era un genio della scrittura e lì ci fu un confronto perché io confrontavo sia io ma anche Pinuccio Sinisi ha scritto per questa cosa qua e quindi ci si confrontava con quello che avevamo imparato noi con la genialità di Nanni Loi e capimmo che non eravamo eravamo sulla buona strada io ti ringrazio davvero per per aver accettato il mio invito e ti ringrazio anche per questo io devo ringraziare te per questo spaccato bellissimo io starei qua con te ore a condividere perché invece ore faremo no invece è molto bello anzi continua e sono fortunata ad esserti amica ad esservi amica anche a Tiziana ma io ti ringrazio sentate da sempre uno spaccato di vita reale quella vita popolare ma fondamentale perché il nostro tessuto sociale che non dobbiamo mai perdere le nostre radici la nostra cultura assolutamente o in orizzontale o in verticale lo fate veramente da sempre bravo perché il teatro a noi piace il teatro non quello che viene dall'alto ma quello che dobbiamo tirare da giù e portarlo sul palcoscenico della vita per far conoscere le realtà della gente per cui è un teatro vivo quello vero grazie davvero grazie a te a Dante e a Marmone e un abbraccio ovviamente a Tiziana Schiavarelli grazie la prossima intervista è promesso che la facciamo a tre va bene grazie grazie di cuore grazie a tutti